Mercoledì mattina ore 7. A Palazzo Federale Ovest i responsabili della Cancelleria federale apportano gli ultimi aggiornamenti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio federale. La seduta sarà impegnativa, gli affari da trattare sono 100. Com'è possibile trattare così tanti affari in una sola seduta? È possibile perché gli affari sono preparati, discussi e in parte trattati dall'amministrazione prima della seduta. Inoltre sono suddivisi in categorie. I temi non contestati e le risposte agli interventi parlamentari sono trattati rapidamente. Ci sono poi gli affari contestati a livello politico che vengono dibattuti in modo approfondito e infine i cosiddetti affari verdi, ossia quelli confidenziali. Alle 8 e 30 gli usceri dei membri del governo si incontrano nella sala riunioni del Consiglio federale e preparano i dossier per i loro capi. Effettivamente c'è molta carta, ma per motivi di sicurezza non può essere altrimenti. Nella sala riunioni del Consiglio federale non ci sono telefonini, nessun computer collegato alla rete, nessun vulan. Sono quasi le 9. I consiglieri federali si scambiano i convenevoli durante una breve pausa caffè. Poco dopo inizia la seduta, che dura quasi quattro ore e che si conclude con un meritato pranzo in comune.